Dire che Gentiloni è un nome spendibile significa mettere in discussione la leadership di Renzi? Assolutamente no. E quindi cosa significa? Oviare Berlusconi, come dice Franceschini, un attacco a tre punte è un'ipotesi concreta o è fantapolitica? Avremo una direzione, discuteremo in quella direzione. Pare che già alla conferenza di Napoli ci sono state dette cose chiare dal punto di vista della nostra impostazione, pronti a fare un'alleanza con chi vuole ritenersi alternativo alla destra dei 5 Stelle, pronti a collaborare senza porre vetti, senza subirli. Io credo che ci siano le condizioni per lavorare seriamente, non c'è bisogno di inventarsi formule fantasiose, c'è bisogno di lavorare. La coalizione va fatta prima nelle elezioni o si può fare dopo le elezioni? No, noi siamo per fare un'alleanza nei collegi, che è un'alleanza che presentiamo agli elettori, e che è l'alleanza politica che proponiamo per il prossimo Parlamento, per quanto riguarda lo schieramento del centro-sinistro. Quello che chiede Zanda... La premia ci per i Renzi è in discussione o no? Assolutamente. Quello che chiede Zanda, la valutazione che chiede Zanda di scindere a Premier e per segretaria, è una valutazione che potete fare? C'è lo statuto, grazie. Quindi no. Come il pallo grasso.